Non appare che i pur deprecabili episodi avvenuti prima dell'inizio della gara possano avere determinato conseguenze sul regolare svolgimento della stessa e sulla sua altrettanto regolare conclusione. Infatti essi si sono estrinsecati in invettive verbali nell'assoluta mancanza del dovere di accoglienza ed ospitalità dovuto dalla società Parmonval nei confronti della società ospitata ed in aggressioni nei confronti di calciatori del gelacalcio che peraltro non hanno determinato alcuna conseguenza tale e da intaccarne il potenziale atletico. Non appare poi, neppure segnalata dagli ufficiali di gara, l'affermata sottrazione dei documenti di riconoscimento dei tre calciatori impediti a partecipare alla gara. Inoltre non può poi non rimarcarsi come in ogni caso la presenza delle forze dell'ordine è stata sufficiente a garantire la regolarità della gara. Gli accadimenti in questione, posti in essere da persone tesserati riconducibili alla Parmonval, vanno comunque fortemente censurati ed adeguatamente sanzionati. Lo scrive il giudice sportivo della Lega Sicula che ha respinto il ricorso presentato dal gelacalcio in merito alla gara disputata lo scorso 14 febbraio a Mondello e conclusasi sull'1-1. Omologato dunque il risultato conseguito sul campo. Il Gela chiedeva il 3-0 a tavolino per il grave contegno intimidatorio che si è registrato in quell'occasione sin dal proprio arrivo al campo sportivo da tesserati e persone riconducibili alla Parmonval prima con il diniego di far accedere il proprio pullman al parcheggio dell'impianto nonostante libero poi con un'aggressione verbale e fisica subita dai propri calciatori anche da parte di una persona in possesso di un'arma impropria e ancora durante il parapiglia seguito con la sottrazione di una valigetta contenente i documenti di riconoscimento dei propri calciatori poi ritrovata priva di tre di essi appartenenti ad atleti che non è stato possibile impiegare con le ovvie conseguenze che tale forzata decisione ha provocato dal punto di vista tecnico-tattico con un danno sotto il profilo prettamente agonistico la Parmonval invece con le proprie controdeduzioni ha respinto tutto esaminati i rapporti degli ufficiali di gara e dei commissari di campo uno dei quali presente all'arrivo del pullman del Gela Calcio dagli stessi si rileva sottolinea il giudice sportivo che all'arrivo dell'automezzo con i componenti del Gela due persone addette al cancello d'ingresso di cui una identificata quale dirigente della Parmonval negavano l'ingresso dello stesso nel parcheggio interno negando l'ingresso anche ai dirigenti continuando nelle provocazioni ed affermando che li avrebbero trattati male proprio come sono stati trattati male loro all'andata successivamente i commissari di campo gli arbitri e gli assistenti notavano la circa 60-70 metri di distanza che al passaggio dei componenti del Gela Calcio che si recavano presso lo spogliatoio loro assegnato scoppiava una rissa tra tesserati delle due società e dalla quale partecipava anche il soggetto non identificato addetto al parcheggio con uno scambio di ingiurie, spintoni, calci, pugni e schiaffi tutto si esauriva con l'intervento della forza pubblica nel frattempo allertata da una dirigente del Gela gli atti adesso sono stati rimessi alla procura federale per accertamenti su quanto segnalato dal Gela Calcio nel proprio reclamo e non emerso nei rapporti degli ufficiali di gara e quanto contenuto nelle contradduzioni prodotte dalla società Parmonval